I ragazzi vedono per la prima volta una guerra vicina, perché finché la guerra altrove non pensano che poi queste guerre che sono altrove ci riguardano direttamente, ma questo vedono che è dietro la porta e quindi seguono per la prima volta una lezione molto amare secondo me per i ragazzi. Perché prima tutto quello che è accaduto, Vietnam, Camboggia, è lontano per loro, non riescono a identificarsi. Invece secondo me con questo in qualche maniera avvicinano alla mostruosità umana, quello che un uomo è capace di fare. E questo secondo me è molto importante per loro, anche se molto amaro e non ci voleva, però è accaduto. Quindi impareranno quello che è l'uomo, impareranno da quale parte stare in qualche maniera secondo me. Qualcosa arriva sicuramente, anche se la verità è molto nascosta, voglio dire. ceremole. Grazie.